Oggi fortunatamente siamo baciati dal sole quindi usciamo e testiamo il Karma Grip Prima di accendere il gimbal e di farvi vedere come funziona voglio mostrarvi come andare a collegare la vostra telecamera Allora il gimbal adesso attualmente qui ha l'aggancio per la Hero 5 Black Ma c'è la possibilità di collegarci anche la Session e anche la Hero 4 Con ovviamente dei frame differenti che vengono venduti separatamente La possibilità di collegarlo è tramite questo frame ma dobbiamo innanzitutto andare a togliere dalla telecamera il pannellino laterale che copre i buchi USB e HDMI Quindi andiamo ad aprire lo sportellino andiamo a toglierlo in questa maniera qua e avremo la possibilità di collegarlo adesso al Karma Grip Infiliamo la telecamera in questa direzione andiamo a fissarlo perché si va ad incastrare all'interno dei pin USB e HDMI E chiudiamo con un click il nostro frame Ora prima di accenderlo vi dico due cosine che mi hanno colpito di questo gimbal Che sono innanzitutto il peso un po' eccessivo per i miei gusti perché parliamo di 460 grammi senza la telecamera E 580 grammi con la nostra Hero 5 attaccata sopra Se andiamo a smontare il gimbal perché il gimbal è gestibile anche per l'eventuale Karma drone Andiamo a ruotare il Karma Grip e andiamo a tirare via il gimbal fisico Il gimbal pesa da solo 230 grammi Questo quindi fa la differenza di peso e di dimensioni effettivamente Senza questo non si può utilizzare ma c'è un accessorio che si può comprare separatamente Che vi permetterà di collegare questo aggancio USB Type-C con questo grip E magari tenere il grip in tasca e questo qui attaccato al petto piuttosto che attaccato in testa o via dicendo Vado a ricollegare il grip e a rifissarlo tramite la sua rotazione Cosa troviamo dietro al grip? Troviamo i comandi per l'utilizzo del gimbal stesso Quindi partiamo con il pulsante Mode ma anche il pulsante di accensione Che accenderà sia il Karma Grip che la telecamera stessa Ecco qui il funzionamento è un classico gimbal a tre assi Quindi lo spostamento sarà questo, sarà questo E avrà il terzo asse che ammorbidisce i movimenti e lo spostamento C'è un pulsante che permette di creare degli highlight direttamente all'interno della telecamera C'è il pulsante di registrazione che permette di iniziare e spegnere le registrazioni della telecamera Quindi andando a pigiare il pulsante di registrazione cominceremo la registrazione della nostra GoPro E potremo anche andare a spegnerlo con lo stesso pulsante Poi abbiamo un secondo pulsante che è lo stesso utilizzato per l'accensione Che però vi permette di spostarvi tra i vari menu Quindi oltre ad essere l'accensione è il menu Mode come quello della GoPro in fin dei conti Quindi andando a pigiarlo ci sposteremo tra i vari menu Video fotografico, fotografico sequenza, timelapse e il menu fotografico Ultimo pulsante, molto semplice questo gimbal Inizialmente non mi piaceva l'idea di avere così pochi pulsanti E di non avere il joystick che tanto ho apprezzato nel concorrente che ho qui a fianco Il concorrente è il Fejutec G4S Vedete le dimensioni un po' più ridotte e anche il peso Perché qui parliamo di 460 grammi Qui parliamo di 310 grammi senza le telecamere Con le telecamere passiamo a 580 grammi Quindi insomma un po' pesantuccio il nostro Karma Grip Contro i 390 grammi del Fejutec Che però devo dire mi piace di più il Karma Grip Come consistenza quando si tiene in mano Mi dà più l'idea di robustezza Tra l'altro non è un gimbal waterproof ma è snowproof Dicono Quindi c'è la possibilità sì di bagnarlo leggermente Non possiamo portarlo sotto acqua Ma anche se ci va un po' di neve O insomma si inumidisce un po' Non dovrebbe avere nessun tipo di problema Dicevo l'ultimo pulsante mi sono perso Che è questo qui È quello che serve per decidere l'angolazione della telecamera Quindi se noi non tocchiamo nulla L'angolazione della telecamera sarà fissa E continuerà a mantenere la sua posizione Se io vado a tenere pigiato il pulsante Potrò gestire l'angolazione con il movimento Se arrivo a questa posizione ad esempio e mollo il pulsante Cosa succede? Succede che il gimbal rimarrà fisso Una cosa che ho notato di questo stabilizzatore È la semplicità dell'utilizzo Nel senso che l'ho dato in mano anche a Katia Che solitamente utilizza il Fejutec E fa un po' fatica se non lo usa quotidianamente Perché magari si dimentica qualche passaggio Come funzionano i pulsanti Le sequenze di pulsanti Qui sequenze non ce ne sono Perché c'è un unico pulsante Che è questo che vi permette appunto Di ruotare il gimbal come ci pare Se lo molliamo il gimbal rimane fisso Nella posizione che abbiamo deciso Se facciamo un doppio clic Il gimbal diventerà mobile Normalmente Quindi non seguirà più l'orizzonte Ma si sposterà in virtù di come ci spostiamo noi Ripigiendolo una volta Ritornerà fisso e stabile Come prima Semplicissimo L'utilizzo La semplicità di utilizzo È disarmante Veramente E la cosa che mi ha fatto impazzire di più Questa la posso paragonare Non al Fejutec Ma all'Osmo Cosa che il Fejutec non ha Ed è una cosa che mi ha fatto impazzire È la possibilità di gestire manualmente Uno degli assi della telecamera Cioè se io voglio girare la telecamera verso il basso Non devo andare a schiacciare il pulsante Il trigger Il pulsantino Ruotare Fare così E poi rimane bloccato Poi perdo l'immagine Perdo tempo Non riesco a gestirla No Prendo E giro la telecamera manualmente Quindi la possibilità di ruotare la camera E di farla rimanere nella posizione che abbiamo deciso Vi faccio vedere la differenza di una ripresa con il gimbal E una ripresa senza gimbal Ci siamo? Partiamo Facciamoci un giretto Allora parto con una passeggiata in selfie style Di modo che possiate vedere la differenza Adesso ce ne andiamo fino a giù perché oggi è una giornata splendida E dai c'è Ha piovuto È da quattro giorni che piove Quindi lì sotto c'è il disastro di acqua Ci facciamo questa passeggiata E anche dai una corsetta Per vedere le differenze tra le due telecamere Ok Questa è la prima corsetta E adesso diamo un'occhiata di fronte Per vedere Come si vede in questa altra posizione Passeggio Quindi non sto correndo Accidenti Tutto bagnatissimo qua E Facciamo una corsetta Ritorniamo davanti alla telecamera Sono ancora col fiatone Mamma mia Bene Avete visto le due differenze Con e senza gimbal Adesso vi mostro gli accessori Che sono stati inseriti all'interno del pacchetto Che ho spacchettato ieri Del karma grip GoPro spegni Così spegno solo la GoPro ovviamente Però si spegne anche Se andiamo a spegnere Attraverso il pulsante Quindi se spegniamo Attraverso questo pulsante Si andrà a spegnere Anche la GoPro stessa Andiamo ad aprire Il nostro grip Ok E andiamo a collegare Un accessorio Che ci permetterà Di andare a fissare Il karma grip Su qualsiasi accessorio GoPro Questo è l'anello Viene inserito Qui Ok Andiamo a reinserire Tutto quanto Lo fissiamo E questo anello Adesso possiamo decidere Come andare a posizionarlo Se ad esempio Io volessi attaccarlo Al petto Vado a posizionarlo In questa parte di qua E lo vado a fissare Con la sua chiusura Prendo il mio cesti Da petto E vi faccio vedere Come si monta È un classico A gancio GoPro Quindi Andremo a fissarlo Qui Mettiamo il nostro cesti Addosso E lo andiamo A chiudere Non faccio altro Che andare ad accendere Il karma grip Di nuovo Lo accendo E lui Si stabilizza Qua davanti A me Quindi io Qualsiasi Movimento faccia Lui Rimarrà Stabilizzato E se ci fosse La necessità Andremo a comprare L'aggancio Più piccolo L'adattatore Più piccolo Che poi ci permetterebbe Di tenere questo In tasca O nello zaino Lo spengo E lo fisso Sul casco In questo caso Se noi volessimo Fare la ripresa In questa maniera Qui Giusto E quindi Con la telecamera Posizionata Così Abbiamo bisogno Di ruotare Il nostro ring Quindi Andiamo ad aprirlo E lo ruotiamo Di qua Voilà Lo andiamo A fissare Qui E ecco Anche La soluzione Per il casco Andiamo A registrare Un esempio Di video Quindi GoPro Avvia video GoPro Arresta video Ok Avete visto Anche Come funziona Collegato A un casco Spegniamo Il gimbal E si spegne Anche la telecamera Contemporaneamente Quanto dura La batteria La batteria Dura Dicono Un'ora e tre quarti Io L'ho tenuto Acceso Per un'oretta e mezzo E non si è E non si è Ancora Spento Qui A fianco Abbiamo Dei led Quando andiamo Ad accendere Il gimbal Abbiamo dei led Che ci stanno Ad indicare Quanta batteria Residua Abbiamo Una cosa Che effettivamente Non mi piace Di questo Karma grip Che non ho capito Perché GoPro Non ha deciso Di farlo In maniera Differente È il fatto Che non si possa Ruotare La telecamera A 360 gradi Se andiamo Ad arrivare qua La telecamera Si gira Non mantiene Non mantiene La sua posizione Però appena La giriamo A testa in giù Ovviamente Abbiamo la possibilità Di sfruttare Il gimbal Anche con Questa posizione Qui Una cosa Che secondo me Potevano fare Per finire il video E magari per dare Un consiglio A Nick Per il prossimo Per il prossimo Karma grip È quello Che potevano Pensarlo Con un'eventuale Prolunga Già a partire Da qui Magari con Una vita Filettata Quindi Ricapitolando Cosa mi è piaciuto E cosa non mi è piaciuto Di questo Karma grip Allora I punti a favore Sono sicuramente I materiali La facilità di utilizzo È assolutamente Uno dei punti Più importanti È a favore Del karma grip Il fissaggio È l'adattatore L'anello Di fissaggio Che ci permette Di collegare Il grip Ovunque Dallo spallaccio Alla testa Al cesti Alle automobili Insomma Ovunque ci sia la possibilità Di collegare Una GoPro Ci si può anche Collegare Il karma grip E per quanto riguardano Invece Le parti negative Di sicuro Il peso 580 grammi Sono decisamente Troppi Per questo Gimbal Il fatto Di non poter Ruotare Lo stabilizzatore Ma di avere Questo problema Che non riesco A mantenere L'orizzonte Dritto Ruotando Il gimbal Quindi Il poco spazio Tra il gimbal E i suoi meccanismi Di rotazione E nota dolente Effettivamente Vedendolo adesso In post produzione Davanti al computer L'audio L'audio Effettivamente Attualmente Risulta Ovattato Ho intenzione Di testarlo Con il controllo Manuale Dell'audio Attivo Disattivo Su vento Con porti un acceso E con il file Audio Anche raw Prossimamente Questo test Su questo canale Se vi è piaciuta Questa recensione Iscrivetevi Al mio canale Qui sotto Spolliciate Verso l'alto Non solo Verso il basso Mi raccomando Quindi Pollici in su Per questo video E ci vediamo Con la prossima review Un saluto a tutti Ciao